Buonasera e ben arrivati a tutti. Siete proprio bravi ad essere qui con questo venticello, ma la piazza lo merita. Il tema di questo incontro lo merita e soprattutto lo meritano padre Paolo. La dottoressa? Anna Maria Testa. Allora, il tema è il corpo tra comunicazione e manipolazione. Concludiamo il festival con un tema un po' importante. In questi giorni abbiamo parlato della bellezza in diversi modi e maniere e ora andiamo a toccare quella che è la percezione di bellezza su di noi. Sugli strumenti che utilizziamo, su come la percepiamo, la cerchiamo. Forse su come a volte ci spaventa l'essere lontani da dei canoni di bellezza o ci fa bene. Quella di questa sera hanno detto che non vuole essere una tavola rotonda, vuole essere una chiacchierata. Ci soffermeremo su qualche domanda e poi lasceremo il tempo a qualche domanda che viene da voi. Devo dire una cosa importante, sulle sedie trovate delle schede, delle cartoline, sarebbero da compilare e poi da lasciare perché per noi sono indicazioni importanti per il prossimo anno e quindi ci servono. Allora, facciamo un bel applauso a Anna Maria Testa. È una esperta di comunicazione e si occupa soprattutto di comunicazione e di creatività. Segue un sito, un suo sito, che si intitola Nuovo e Utile. I giorni scorsi sono andata a cercare qualcosina. È proprio bello. Se vi capita di avere tempo, andate a vedere. Gli altri titoli ha detto che non li devo dire. E poi abbiamo Fra Paolo, un confratello del Tor, un amico del festival, un teologo che è uscito da alcune strade forse un po' più percorrere, corse un po' più conosciute e si è messo nella riflessione dell'etica, della bioetica e dell'etica delle tecnologie. Lasciamo anche da parte, anche per lui lasciamo da parte i titoli e gli Atenei dove insegna. E adesso partiamo con una domanda. Abbiamo detto il corpo tra comunicazione e manipolazione. Allora, la prima domanda che mi viene da fare, ma che un po' ci viene indicata. Come ci cambia l'idea di bellezza? È semplice, è secca, poche parole. Ma l'idea di bellezza per alcuni è un chiodo fisso, per altri è un'idea che va e viene, per altri è ancora un'ossessione, per altri è ancora un desiderio, per altri è ancora un'aspirazione, per altri è ancora un fatto di marketing, un fatto di affari, per altri è ancora quello che governa le loro vite. Quello che mi preme dire però all'inizio è che l'idea di bellezza non è costante. Se pensiamo, dicevamo prima, al Venere Calipigia greca o prima ancora, alle Venere Calipigia neolitiche, che erano delle belle taglie XXXXL, dei 58, e poi pensiamo alle bellezze del Trecento e poi a quelle tormentate del Novecento e poi alla bellezza femminile odierna, che è molto stereotipata in me. Ecco, ci rendiamo conto che l'idea di bellezza cambia, pensiamo alle donne di Rubens e pensiamo alle donne di Egon Schiele, se vogliamo avere in mente due pittori. Ecco, quindi in realtà la bellezza è come l'orizzonte, più pensiamo di avvicinarsi, di avvicinarci, almeno la bellezza dei colpi è come l'orizzonte, più pensiamo di avvicinarci, più si allontana. Un'altra cosa da dire è che spesso si intervistano bellissime e anche bellissimi e si scopre che hanno delle ossessioni per noi comuni mortali del tutto incomprensibili. si vedono brutti, così come alcune ragazze che non mangiano per dimagrire si vedono grassi anche se sono magrissime, così come alcune persone che hanno ritratti del volto normali, regolari, eccetera, si vedono bisognose di interventi molto violenti da parte del chirurgo. E la cosa curiosa è che spesso lo fanno perché vengono male nei selfie. E allora un chirurgo estetico serio spiega che l'obiettivo della macchina, del telefonino a deformare, andrebbe cambiato il telefonino, o andrebbe preso una foto da più distante, non andrebbe cambiata le proporzioni del volto. Insomma la bellezza è anche negli occhi di chi guarda. Buonasera a tutti, è un piacere essere in questa piazza. Assolutamente d'accordo, l'idea di bellezza cambia, cambia nel tempo, cambia a seconda delle culture, cambia a seconda di quello che abbiamo dentro. però se c'è una bellezza che è fuori di noi, che è appunto questa caratteristica, che però ci accompagna da sempre, questo è interessante. Ogni stagione ha dipinto la sua bellezza, ha immaginato la sua bellezza, quindi c'è un qualcosa che ci accomuna come specie, come esseri umani, che parla di bellezza, parla di un qualcosa di fronte al quale l'unica reazione possibile è quella della contemplazione. Ecco, poi c'è un'altra bellezza, che è quella invece, a questo punto io sfrutterei la particella C, che è quella che il soggetto all'improvviso può sentire come propria. Ci si può sentire belli. E qui mi risuonano delle parole di Jean Vanier, il quale diceva, sapete, il fondatore della comunità, il Chicco, diceva, amare qualcuno significa svelargli la sua bellezza. E allora se c'è una bellezza sociale, se c'è una bellezza, come dire, mediana, immaginata, rappresentata, irraggiungibile da una singola creatura, ma proprietà di una cultura, c'è poi una bellezza diversa, che può essere proprietà di qualcuno che in un momento si sente amato. ed è interessante che, per esempio, dal punto di vista cristiano, la bellezza è una delle caratteristiche che sono connesse anche alla nostra fede. Per cui noi ci scopriamo belli, perché ci scopriamo amati. E c'è una forma di bellezza che ci appartiene e che si dimostra in questa relazione speciale, profonda, che sconvolge le vite, che è la relazione d'amore. E qui partono traiettorie di vita per le persone, che sono diverse. Cioè, se la bellezza può essere una schiavitù, perché spendo tutto me stesso per raggiungere un orizzonte che sarà sempre più in là, poi c'è anche una bellezza che invece è una qualità, che è quella qualità che mi ritrovo nella mia vita e nel mio cuore quando mi scopro all'interno di una relazione speciale che è una relazione d'amore. Vi ricordate quella canzone popolare che dice che me ne importa a me se non so bella, ma c'è l'amante mio che fa il pittore e vi dipingerà come una stella? È questa! O ancora quella fiabba, che è la fiabba del brutto anatroccolo, laddove il problema del piccolo cigno era essere diverso da un canone. E quando si è scoperto invece, in una relazione affettiva, in una relazione parentale, che era la relazione con il genitore, che gli ha fatto anche scoprire la sua bellezza. E quindi secondo me la bellezza è duplice, c'è questa cosa che noi idealizziamo, ma poi c'è tutta una bellezza da scoprire. E secondo me qui questo titolo Tu sei bellezza è anche un annuncio di possibilità, di felicità possibile, perché ciascuno di noi è inserito all'interno di questa visione di un padre che ci guarda come belli, ci guarda come bellezze. Posso tornare su un tema un pelo più frivolo? Temo che questo sia il mio ruolo qua. Allora, c'è un sito internet che si chiama Advanced Style. Sapete che uno dei tabù contemporanei è l'invecchiare. Questo sito americano, che adesso è stato guardato con grande interesse anche dall'Italia, tant'è vero che una delle foto di questo sito è stata clonata sull'ultimo disco di Mina e Celentano, questo sito mostra persone molto, ma molto, ma molto avanti negli anni vestite in maniera strepitosa, non necessariamente in maniera opulente, ma possono avere un cappello strano, possono avere una cravatta colorata, possono avere un vecchio mantello e sono contente di abbigliarsi in questo modo curioso, estroverso, divertente, consapevole. Sono bellissimi. Sono bellissimi e sono delle guide in qualche modo che ci aiutano a capire che la bellezza è anche per certi versi una conquista di consapevolezza. Cioè se io non provo a forzare me stesso, me stesso, me stessa, per aderire a un canone, ma cerco di esprimere me stesso, ma anche attraverso l'abbigliamento, attraverso i gesti. Fra l'altro alcune bellissime e bellissimi li vedi camminare o li senti, peggio ancora, li senti parlare e ti metti le mani nei capelli. Quindi la bellezza è una cosa che ci possiamo portare in giro e che potremmo tutti noi riuscire ad indossare, se ce la facciamo, come un cappotto colorato e confortevole. Volevo aggiungere un'altra cosa che in tutto ciò i maschi hanno un grande privilegio, ne parlavamo prima, un paio di grandi privilegi. Il primo è che hanno una varietà di modelli di bellezza molto superiori di quelli di cui disponiamo noi donne, perché ciascuna epoca ha il suo archetipo di bellezza femminile e invece ne recepisce molte di più di bellezza maschile. Vorrei una cosa più democratica da questo punto di vista. E poi i maschi, compreso il qui presente, hanno la grande risorsa in uniforme. Un maschio in uniforme, quale che sia l'uniforme, è sempre bellissimo. Io non appartengo al canone della brezza fluente e neanche della tartaruga, forse rovesciata. Ma mi colpisce questa cosa perché, diciamo, questa apertura al mondo del digitale, cosa fa il digitale? Il digitale fluidifica quelle che sono le nostre immagini. Con software di fotoritocco è possibile cambiare un'immagine alterandone anche la realtà. Oggi abbiamo il problema delle fake news, ma abbiamo anche il problema delle fake images. Cioè non sappiamo se una foto è reale o no. E c'è una campagna che è partita negli Stati Uniti, ma che si sta diffondendo tantissimo, che vorrebbe che alcuni tipi di immagini, come accade sui pacchetti di sigarette, riportassero la dicitura che quelle immagini sono state foto ritoccate al computer. E ci sono questi video che stanno diventando virali in cui si vede come una modella reale venga poi ritoccata digitalmente per apparire bella in una maniera che non è. Quindi quel corpo che noi ammiriamo, quella bellezza idealizzata che produciamo, non solo non è mai esistita, ma mai sarà possibile farla esistere. E la potenza che oggi è il digitale nel ripetere, diffondere e comunicare quel tipo di immagine è secondo me particolarmente pericolosa, specie per quella fascia della popolazione che è in crescita, specie per quella fascia di popolazione che cerca dei modelli, che cerca qual è la sua bellezza. Ecco, fissarsi su modelli impossibili secondo me rischia di mettere in atto quelle che potrebbero essere esistenze impossibili. Questa, questa sulla varietà della bellezza femminile è stata, diciamo prima che la bellezza è anche un fatto di marketing e di vendite. Ecco, un prodotto di bellezza americano che è una linea di prodotti si chiama DAV scritto dove ha adottato questa linea di comunicazione molto democratica per quanto riguarda la bellezza femminile. Appunto, la campagna e la comunicazione di DAV in questo senso è cominciata diversi anni fa appunto con il video di una modella che veniva manipolata via Photoshop fino a diventare bellissima. Se cercate su YouTube trovate questo video. Ma poi la campagna è proseguita con molti altri video e con molti altri episodi di comunicazione il più rilevante dei quali è questo. Fanno una specie di esperimento sociale. Chiamano dieci donne e chiedono a ciascuna di loro di descriversi davanti a un signore che fa degli identikit e che non le vede. è nascosto dietro una parete. Quindi le descrive le disegna a partire dalle loro parole. Ho un viso tondo ho un viso ovale ho il naso storto ho gli occhi piccoli ho le sopracciglia. Così e cos'ha. Dopodiché ciascuna le donne se ne vanno via e per ciascuna donna viene un'amica o un amico a descrivere com'è la loro faccia. Con le sue parole. E il signore che fa gli identikit di nuovo costruisce l'identikit. Qual è il risultato? I due ritratti di ciascuna donna uno disegnato a partire dalla descrizione che lei dà di se stessa e l'altro disegnato a partire dalla descrizione che dà l'amico o l'amica sono simili ma diversi e quello che parte dalla descrizione dell'amico o dell'amica o del fidanzato è sempre molto più bello. E questo significa e questo e questo significa che siamo molto severi quando ci guardiamo allo specchio e soprattutto che vediamo il dettaglio e non vediamo l'insieme e se non vediamo l'insieme perdiamo la vita che c'è nell'insieme. Grazie. Allora passiamo un'altra domanda anche se le sollecitazioni sono molte e mi verrebbe un po' da suora fare qualche considerazione. la posso fare? In questi giorni in questa piazza il tema della bellezza è risuonata in tanti modi e in tante maniere e naturalmente una delle frasi più citate è quella di Dostoievski no? La bellezza salverà il mondo o come qualcuno ha tradotto la bellezza ha già salvato il mondo e quindi un po' la sensazione che la bellezza sia quel filo che quando ti crolla tutto da sotto i piedi e prima o poi succede che qualcosa che ti viene che va via la terra da sotto i piedi perché la vita questo lo porta rimanga quel filo l'unico filo di una sensazione di qualcosa di bello cioè la bellezza non viene mai a meno nel corso della vita e San Francesco ci ha raccontato come nel momento in cui è riuscito ad abbracciare la sua bruttezza ha incontrato la sua ha iniziato ad incontrare la sua bellezza e quindi mi verrebbe da dire proprio questo cioè come possiamo manipolare il modo di pensare di parlare di agire affinché riusciamo ad abbracciare la nostra bruttezza per far venire fuori la bellezza Urca posso dire intanto che visti da qui siete bellissimi no è vero siete tantissimi no ma perché ci sono sto guardando le facce sono facce diverse intense e intente e c'è una luce molto bella perché è una luce morbida serale e che quindi abbraccia un po' tutta questa piazza il tema credo che sia togliere sovrastrutture e trovare uno sguardo che sia curioso e candido cioè se noi se noi guardiamo i ritratti fatti dai grandi artisti non necessariamente hanno ritratto persone belle ma hanno trasmesso attraverso il ritratto delle interessanti diverse uniche qualità e caratteristiche di una persona saremmo contenti di essere veramente tutti uguali cioè se tutti noi riuscissimo a essere come quella signorina in jeans è una gnocca spaziale quella che quella che vedo spuntare da quel manifesto diciamo che io ho una bacchetta magica la batto tre volte e tutte le signore di questa piazza diventano identiche ma identiche in ogni millimetro da quella signorina vorremmo davvero fare che succedesse così per sempre non diventa la condanna ad aderire allo stereotipo una una specie di incubo di negazione del cambiamento del mutare della diversità dell'individualità quindi forse noi ci stuggiamo per una cosa che se ce l'avessimo non ci renderebbe così contenti non lo so io proverei a girare un pochettino la questione cos'è quella cosa bella che io posso dire bella e che riconosco come tale in prima approssimazione la risposta potrebbe essere quella cosa che vale la pena di raccontare che vale la pena di essere vista che vale la pena in qualche misura di essere descritta e allora secondo me la bellezza sta là sta nel rendersi conto che c'è qualcosa di noi di cui ne vale la pena qualcosa della mia storia che vale la pena di essere vissuto qualcosa di quel panorama che vale la pena di essere visto qualcosa di quella di quella meta che fa sì che valga la pena di essere raggiunta la vita di ciascuno di noi è un qualcosa che si spende in scelte che ne escludono altri venire qua mi porta a non essere da un'altra parte aver fatto determinate scelte nella mia vita me ne chiude altre ecco la bellezza è quella cosa che dischiude il senso alle scelte che ho fatto la bellezza è un qualcosa di senso più che di scopo quello è per vendere ha uno scopo un fiore non ha nessunissimo scopo ma è pieno di senso e allora quando ciascuno di noi può trovare dentro di sé che si accende quella lampadina del senso quella fulmine di senso lì trova anche la bellezza e in questo senso sono veramente d'accordo perché è unicità perché non è essere uguale a quello ma è avere quell'unicità che mi fa dire che io ne valgo la pena che c'è un qualcosa che vale la pena di essere vissuto e qui perdonatemi se faccio il francescano a me viene in mente Santa Chiara che alla fine della vita dice laudato sì mi signore perché mi hai creata così ecco cos'è quello se non un attestato di bellezza scoperta e in un momento in cui e con questo sono provocatorio rispetto alla cosa di prima Santa Chiara ha vissuto in uniforme e lì c'è un senso che è un senso unico dove nel massimo per il mondo che è il massimo della conformazione c'è l'assoluta non conformazione che si chiama la santità ecco e lì c'è qualcosa che non si spiega che non si capisce che non è un risultato di una formula non è un algoritmo non è neanche forse un canone ma è un qualcosa di altro che possiamo solo contemplare sulla santità non sono preparata però però la cosa che posso dire è che c'è comunque nella scoperta della bellezza ma ogni tanto capita di guardare 20 foto e in una siamo venuti bene o c'è una luce nel nostro sguardo di solito non sono le foto che ci hanno appena scattato sono foto che sono lì da un po' nel telefono sono uscite dai nostri occhi e le riguardiamo con curiosità ecco c'è un po' di incantamento che non è ben distante dalla santità però un pizzico di uscita dall'ovvio dal quotidiano da ciò che è atteso un pizzico di trascendenza nel riconoscere nel saper riconoscere la bellezza Santa Polenta perché posso dire Santa Polenta sì che è una mia santa protettrice quando uno riesce a riconoscere la bellezza e si allena a riconoscere la bellezza e riesce a riconoscerla anche ed è questa una sfida che tutti noi potremmo accogliere riesce a riconoscerla nei luoghi nelle facce nei colpi nelle situazioni non così ovvie c'è una grande soddisfazione c'è un orgoglio ci si sente intelligenti a riconoscere la bellezza e anche a riconoscere alcune parti di noi stessi che tutte assieme poi in un attimo armonioso costruiscono bellezza allora tempo fa mi chiama una che lavora per un'azienda di adotti per capelli mi dice signora signora vorremmo invitarla a parlare perché adesso stiamo sdoganando i capelli bianchi prima facevamo le tinte per i capelli adesso stiamo sdoganando i capelli bianchi e stiamo lanciando un prodotto per renderli più bianchi ma più belli allora io prima di tutto mi permalisco perché mi avete chiamato per motivi anagrani grafici e non per motivi professionali e poi dico no abbiamo pazienza uno si libera del ricatto della tinta sui capelli e dovete dargli la tinta per rimettersi i capelli bianchi per sistemarsi anche i capelli bianchi ecco perché sto raccontando questo aneddoto perché non dobbiamo farci scippare la nostra voglia di essere così come siamo la nostra voglia la nostra voglia di sperimentare altri modi adesso viviamo in un mondo in cui veramente tanto di quello che ci circonda è marketing e può essere un po' soffocante vivere in un mondo di questo genere uno deve ritagliarsi delle nicchie delle nicchie di autonomia anche delle nicchie di humor perché un grande modo per gestire il tema del non sono mai abbastanza bello è tratarlo con un pelino di humor a me colpisce tanto questa è una cosa che sull'humor il papa insiste tantissimo no per me colpisce tanto questo discorso dello sguardo perché a me viene in mente come tutta la letteratura greca chiamava il povero la prosopon colui al quale è tolto lo sguardo e allora dire che questa bellezza questa trascendenza dello sguardo questo qualcosa di oltre che alcune correnti anche filosofiche hanno chiamato la persona qualcosa che va oltre il corpo persona era il nome della maschera dietro al quale risuonava una voce c'era qualcosa di oltre ecco togliere all'altro questa dignità dello sguardo togliergli il sguardo togliergli dignità e renderlo povero e togliergli qualcosa di unico e forse i pericoli che abbiamo detto di quella pressione sociale del marketing di un mondo che vuole vendere canoni e forse è proprio questo questo di togliere questa ricchezza alle persone per cui siamo tutti più poveri e abbiamo tutti bisogno di qualcosa però forse invece abbiamo bisogno di qualcuno più che di qualcosa se dovessi scrivere un racconto di fantascienza ambientato nel futuro immaginerei un futuro molto lontano mi auguro e forse che non arriverà mai mi auguro ancora di più in cui tutti i corpi sono omologati e allora uno va dall'estetista per farsi fare il naso per farsi stortare un po' il naso o dal chiuro estetico per farsi stortare un po' il naso per farsi fare un segno sulla faccia per essere diverso diverso dagli altri e il tatuaggio in tutto questo non è un po' di questo cioè in un mondo di corpi già in parte omologati questo bisogno profondo che c'è di dire qualcosa di diverso con un tatuaggio e questo è un bel fatto perché io distinguerei tra tatuaggi consapevoli cioè so cosa mi sto tatuando ho deciso di farlo perché c'è un motivo profondo in alcuni ambiti sociali i tatuaggi hanno una ragione forte per esempio se andate in Giappone e avete un tatuaggio non potete entrare in una stazione termale perché i tatuaggi fanno parte della Yakutra la mafia giapponese per cui anche se avete un innocentissimo tatuaggio italiano siete tagliati fuori quindi dovete scegliere fra andare in un centro termale giapponese è un'esperienza interessante o tatuarvi questa è la prima cosa in Russia molti tatuaggi sono storie criminali addirittura leggevo che i poliziotti più esperti leggono la storia di un criminale spogliandolo e guardando che cosa si è tatuato riescono a capire quanti ne ha ammazzati quanti ne ha fatti fuori quanti anni ha fatto di galera a che gruppo di criminali appartiene eccetera è la stessa cosa per molte gang metropolitane non chiedetevi come mai sappia i tatuaggi sono curiosa sono andata a leggermi delle cose in 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 Inghilterra i tatuaggi erano tipici dei marinai delle classi più umili di quelli che avevano girato per mare qualche volta si erano fatti anche un passaggio nelle parti delle galere e delle classi delle classi più alte cioè c'è questo strano legame fra highbrow e lowbrow tra classi elevate i nobili e classi umili il popolo che taglia completamente la classe media la borghesia che è già stato rilevato per esempio da Virginia Woolf ed entrambe le classi condividevano la passione sfegatata per i tatuaggi da noi i tatuaggi sono arrivati da pochi anni alcuni sono bellissimi mi chiedo sempre se un ragazzo una ragazza che si tatua a vent'anni si è domandato come apparirà a 70 o a 80 con quei tatuaggi altri tatuaggi sono un po' strani non tutti vengono fatti in maniera consapevole leggevo in un'intervista non sono tatuata anche se ho avuto qualche volta la tentazione leggevo in un'intervista uno dei maggiori tatuatori milanesi uno molto noto che raccontava per esempio che da lui è arrivato uno con un tipico tatuaggio da marinaio due colombe sul petto e lui gli ha chiesto ah ma sei gay? e lui ha detto no perché anche un po' risentito un maschione tutto muscoloso le due colombe sul petto sono il tipico tatuaggio dei marinai gay accasati se c'è una colomba sola invece è uno che sta cercando amicizie eccetera eccetera allora bisogna sapere bisogna sapere cosa ci si è dato addosso e sapere che si sta disegnando una storia sul proprio corpo sapere che è una storia permanente sapere che forse decorarsi con gli abiti è più semplice che decorarsi con l'inchiostro sapere soprattutto che un tatuaggio è una comunicazione fortissima se me la faccio devo essere proprio convinto non può essere una questione di moda è un rito di passaggio è comunque un rito questo a me colpisce colpisce tanto perché se noi pensiamo a quello che è stata la storia una volta gli schiavi venivano tatuati era un appartenere a qualcosa e a un qualcuno era un scriversi sulla pelle delle cose che non passano gli ebrei nei campi di concentramento era proprio anche un deprivare la personalità di quello che è in cambio di un numero era serializzare un qualcuno o qualcosa però questo apre secondo me a una frontiera che è la frontiera di oggi che è la frontiera della manipolazione nel senso noi siamo a 50 anni dal 1968 nel 1968 c'è stata la rivolta studentesca in Europa e negli Stati Uniti invece c'è stata la nascita della cultura hacker due fenomeni diversi ma due fenomeni intimamente connessi entrambi dicevano che il sapere non veniva dalle generazioni più anziane perché erano più anziane ma i giovani pretendevano il loro sapere la loro responsabilità la loro conoscenza e oggi a 50 anni le due cose si sono messe insieme c'è questo fenomeno nuovissimo che colpisce tantissimo che mette insieme la cultura hacker cioè il cercare da soli delle soluzioni e delle conoscenze con quella che era negli anni 60 la body art cioè cambiare il proprio corpo per esprimere se stessi e nasce il biohacking cioè io metto le mani sul mio DNA modifico me stesso in una maniera che parte dal basso quindi ci stanno questi dio ricercatori che fanno queste fiale con varie cose che uno se le inietta e per esempio aumenta la massa muscolare o cambiano alcune forme del corpo ecco arriviamo a dire che il corpo è una sorta di qualità plastica che mi ha affidata abbiamo cominciato con i tatuaggi ma adesso arriviamo a questo su cui io posso mettere le mani per cui non si tratta più di scoprire la mia bellezza si tratta di produrre un qualcosa come se in fondo quello che fossi è uscito male questo fenomeno culturale a me incuriosisce tanto da leggerlo anche un po' con quelle categorie della critica culturale un po' tipo scuola di Francoforte cose di queste lì ci sono anche quelli che si mettono dei microchips sotto la pelle per esempio per poter fare delle cose abbiamo tutto il sistema delle protesi che sta diventando enorme e amplissimo tutti molti di noi usano protesi gli occhiali sono delle protesi gli occhiali sono delle protesi le dentiere per fortuna sono delle protesi i pacemakers sono delle protesi certo ma adesso abbiamo pensate a Bebevio abbiamo protesi che sostituiscono in maniera super efficiente arti mancanti ma non solo mimano le prestazioni degli arti umani ma le migliorano cioè il problema di alcuni corridori che corrono con le gambe di titanio è che vanno più veloci di quelli che corrono con le gambe normali avremo delle visioni aumentate i Google Glass gli occhiali di Google sono stati un po' un fallimento ma non possiamo pensare che tutto ciò finirà avremo probabilmente fra dieci anni vent'anni mentre le automobili si guideranno da sole si porteranno in giro e noi ci annoieremo avremo degli occhiali per entrare dentro mondi virtuali ecco in tutto questo e questa è una domanda per il teologo il senso del sé io in rapporto con il resto del mondo dove vado a finire se la mia identità che coincide con la mia immagine corporea e con la mia memoria di me può essere così manipolata se io posso trasferirmi altrove se il mio corpo continua a cambiarsi e può migliorarsi con le protesi e quale parte di me continua a essere in relazione col tutto ammesso che possa esserlo questa è una domanda pericolosa perché io l'anno scorso ho fatto una conferenza solo su questo qui al festival francescano quindi riparto no scherzi a parte allora il punto è che l'uomo non è una cosa statica siamo una cosa dinamica e c'è un qualcosa di noi che cresce già come siamo fatti fisicamente siamo un divenire e il problema però di fronte a queste capacità della tecnica che intervengono sul nostro divenire si parla in termini tecnici dell'enouncement cioè non più farmaci che servono o protesi che servono a recuperare condizioni perse ma abbiamo la possibilità di andare oltre il normale possiamo prendere delle pillole e non scordare più possiamo prendere delle pillole e non avere bisogno di dormire possiamo correre di più ecco non è tanto il problema che siamo in grado di fare queste cose ma che possiamo relazionarci a queste cose come se fosse una nuova forma di religione la religione è sempre stata caratterizzata del pensiero religioso qualunque sia la religione dal destino ultimo dell'uomo il cristianesimo parla di risurrezione altre forme religiose parlavano di altre fine ecco c'è un modo di relazionarsi alla tecnologia che è religioso per cui sarà la tecnologia a risolvere il mio problema della morte e c'è tutta una visione che c'è questa matrice religiosa che si chiama il post umano che vede la risoluzione dei problemi dell'uomo in funzione della tecnologia ma questa forma di pensiero religioso oggi è tramandata in alcune opere d'arte che sono le opere d'arte della fantascienza e in particolare di quella fantascienza che è narrata dalle serie tv in streaming che c'è una cosa caratteristica che non finiscono mai perché c'hanno sempre tanti episodi e allora se voi prendete cose come che ne so Altered Carbon Carbonio Alterato che è una delle serie che c'ha più visualizzazioni su queste piattaforme è tutto attorno al fatto che la nostra mente può essere salvata e messa su supporti di Carbonio Alterato la chimica del Carbonio è la chimica della biologia e allora siccome siamo venuti fuori male perché la biologia c'ha questa strana cosa di deperire e morire se noi ci mettiamo su supporti che non sono semplicemente biologici ecco duriamo di più non moriamo più l'idea di un oltre che viene mediato e viene realizzato qui nella terra è un pensiero religioso e si recuperano alcuni di questi pensieri religiosi vi faccio un esempio serie di grandissimo successo Westworld Westworld della HBO HBO è questo grande canale televisivo americano Westworld il sottotitolo dove tutto è possibile è un parco giochi a tema West dove gli attori principali sono dei robot adottati di intelligenza artificiale il sottotitolo è dove tutto è possibile perché sono lo sceriffo il bandito la prostituta del saloon sono dei robot quello che faccio faccio non ha conseguenze che cosa succede che quando rompo qualcosa sfascio qualcosa io visitatore poi quelli lo ripuliscono lo resettano e ritorno a giocare il ruolo di quell'attore là però che cosa accade che reset dopo reset questi robot dotati di intelligenza artificiale mantengono delle cose insomma per farla breve alla fine si ribellano al scienziato di turno che era Hopkins che invece di fare l'attore per un grande film di Hollywood fa l'attore per una serie televisiva e già questo sarebbe da analizzare e quindi si ribellano con calma c'è un giardino c'è una creatura e la creatura si ribella al suo creatore mi sembra una storia già sentita allora capite che anche il paradigma religioso piantato in queste nuove forme di narrazione che hanno alla base non il peccato cioè il nostro non essere all'altezza ma l'idea di un'umanità che in fondo è un po' sconfitta e con la tecnologia deve mettere le mani su se stessa deve modificare il proprio corpo perché questo non va bene è una nuova forma di pensiero di natura religiosa che esprime un grande grido quello che siamo non ci basta vogliamo essere qualcosa di diverso e secondo me qui c'è anche una grande sofferenza il non bastare quell'orizzonte che non raggiungiamo perché sta oltre invece di essere una trascendenza ci illudiamo che è un'immanenza ma l'immanenza non basta a nessuno e lì ci serve altro ho una chiave di lettura pochi secondi anche se anche se può essere che questo inganno nasca dal fatto che c'è un è una pulsione verso la bellezza mossa dal desiderio e non mossa dalla meraviglia perché il desiderio non è mai appagato la meraviglia si appaga assolutamente sì secondo me quella bellezza di cui abbiamo parlato la bellezza bella perdonate il gioco di parole è quella che nasce dallo stupore Aristotele parlava della Thomas Zane entrare faccio il partigiano nella basilica di San Francesco ve l'ho detto facevo il partigiano ci apre uno stupore e quello stupore è lo stupore della contemplazione della bellezza questo invece è un qualcosa da possedere è un qualcosa da avere è un qualcosa che nasce se vogliamo da un altro tipo di emozione che è l'emozione shock e l'emozione shock però poi non basta poi mi chiede altre dosi ci rende un po' dipendenti e questo sarebbe da investigare e anche a più voci perché lì c'è un qualcosa una forma di nevrosi della nostra cultura c'è un trappolone sì assolutamente per il momento ci fermiamo lasciamo qualche minuto alle domande le sollecitazioni sono state molte la lettura della realtà è stata fatta da diversi punti di vista alcune cose erano molto più grandi di me ma forse qualcuno le ha percepite e ci farebbe piacere qualche domanda per far sì che i nostri ospiti possano donarci delle parole che possiamo portare a casa che siano proprio una risposta a noi c'è qualcuno che ha qualche domanda? vediamo se arriva un microfono sta arrivando Saverio grazie buonasera una una suggestione una sottolineatura bellezza e tempo il festival quest'anno è tu sei bellezza noi tutti sappiamo che il tempo spesso lo percepiamo come il cronos il tempo dell'orologio ma c'è anche un altro tempo che è il kairos il tempo opportuno ecco forse il dilemma vero delle persone è che il tempo è percepito come qualcosa che scorre inarrestabile e quindi è qualcosa da combattere se noi riusciamo a percepire il tempo come kairos il tempo opportuno da vivere ecco che loro il tempo non è più il nemico da combattere ma è il dono che ho la pianezza di vita di vivere viverla intensamente e quindi se da una parte il cronos è una bellezza che inesorabilmente passa e finisce col kairos io posso vivere una bellezza che cresce che coltivo perché nel tempo divento persona piena grazie sì senz'altro ma è un po' più problematica di così perché se noi pensiamo alla più grande delle sofferenze che ci possono venire in mente è un kairos anche quello ma è un kairos che speriamo che passi presto allora ecco qui c'è tutto quel già e non ancora se in una visione anche profondamente animata dalla fede la vita eterna è quella che ha descritto lei questo kairos senza fine in cui la comunione dei santi basta ecco qui siamo ancora e non già e non ancora e forse la bellezza è proprio quello squarcio di non ancora che irrompe in quel già che tante volte non mi basta allora se vogliamo utilizzare un altro termine francescano il termine della conversione ecco la conversione è trovare quello squarcio in un ancora che magari è così difficile da interpretare penso all'episodio di San Francesco in Lebroso quello che sembrava una cosa da fuggire quello che escludeva dal vivere sociale la non bellezza per eccellenza perché Lebrosi non potevano entrare in città diventano nella vita di Francesco un qualcosa da abbracciare una bellezza un già che si può vivere fino in fondo quindi d'accordissimo ma con questa tensione che prende molto sul serio la nostra condizione di oggi fatta di fragilità impastata anche di ingiustizie in un mondo che geme nel bene ma anche nel male ecco quindi sì ma consapevoli che c'è ancora tanta bellezza da realizzare posso aggiungere a proposito di tempo e bellezza invece c'è un altro aneddoto super frivolo la squisita scrittrice di Gialli Agatha Christie scopre che il marito la tradisce sparisce e ritorna lo pianta passa del tempo e si sposa si trova un altro marito di oltre un decennio più giovane di lei e dice ineffabile fa l'archeologo è magnifico più invecchio più gli piaccio io volevo fare solo un'osservazione siccome ho sentito le cose molto brillanti molto profonde intelligenti però faccio un'osservazione molto semplice banalissima per arricchire il discorso mi ha sempre colpito la bruttezza dell'umanità la bruttezza estetica sembra che sia una cosa che non ha tutti scotomizziamo come se non fosse evidentissima la bellezza del corpo umano è eccezionale noi la vediamo molto sui giornali sulle riviste di moda ma non la vediamo quasi mai nella realtà due anni fa mi trovavo a Bruges nella piazza e aspettavo la mia compagna che doveva comprare delle patatine fritte che lì sono di usuali e mentre guardavo guardavo tutti questi turisti della piazza piena di turisti da tutte le parti del mondo e non riuscivo a vedere una persona né bambini né giovani né vecchi che fossero degni di essere guardati per l'estetica quindi noi siamo tra gli animali perché se mi rivolgo invece agli animali vado nella foresta e a me piace molto la natura trovo che gli animali sono meravigliosi sembrano veramente lo stampo di Dio mentre noi sembriamo la maledizione di Dio anche esteticamente per non dire poi per non dire poi che oltre alla bellezza strettamente estetica questa spesso estetica si manifesta anche come bruttezza che sembra quasi principiare quella interiore perché le persone anche che possono essere esteticamente brutte spesso sono molto simpatiche carine rivelano un'anima buona un'anima piacevole ma invece io facevo vedere quando guardo l'umanità in giro tant'è vero che io sto sempre meno in mezzo alle persone mi piace stare in mezzo agli animali vedo più il segno di Dio negli animali che non negli uomini allora è dura rispondere nel senso che no nel senso che da un certo punto di vista posso dire che le due ragazze qui quando lei si è seduto lì si sono dette che bel signore intanto intanto era un complimento io lo prenderei io lo porterei a casa male non fate insomma no a me viene viene in mente è vero l'uomo è il meno dotato Galen in un suo saggio sull'antropologia di noi antropologie lui diceva che siamo l'essere che corre meno veloce degli altri che c'ha meno possibilità degli altri però poi siamo quelli che abbiamo cambiato di più il mondo però tornando a quello che diceva lei a me viene alla mente un racconto Antoine de Saint-Exupéry Terra degli Uomini in cui lui racconta tutta una serie di cose che gli succedono facendo il pilota e a un certo punto racconta che lui tornava da Parigi verso la Polonia con il treno di notte e vede tutti questi bambini biondi bellissimi lui li chiama piccoli Mozart che stanno con i loro genitori che erano minatori polacchi che erano andati in Francia e dice sembravano piegati dalla vita stozzati come pezzi di ferro passati nella stozzatrice e lui diceva qui vedendo i loro figli questi piccoli angeli biondi piccoli Mozart uno si chiede com'è possibile che da grande vengano così e si diceva concludendo c'è bisogno di coltivare quella bellezza c'è bisogno di giardinieri allora io la metterei così ciascuno di noi porta dentro un seme di bellezza che va coltivato che va coltivato in un contesto che è un contesto comunitario e allora forse quello di cui ci dobbiamo sorprendere è come è stato possibile far sciupare tanta bellezza in chi mi sta accanto forse ci dobbiamo sentire anche un po' responsabili per tutta quella bellezza del mondo che non riusciamo a far esprimere torno sul lato frivolo un momento di nuovo 30 anni fa 40 anni fa la gente per le strade italiane era vestita benissimo tuttora spesso se uno va all'estero capisce gli italiani perché sono vestiti meglio degli altri ma sulle spiagge hanno dei costumi migliori di quelli degli altri il problema dei turisti è che sono una strana classe che si disumanizza per trascinarsi in mezzo alle città torniamo al punto di partenza una cultura del turismo dovrebbe essere dovrebbe comprendere il fatto che vado a vedere una città vado a casa ad altri e quindi non mi presento in ciabatta e calzoni della tuta e maglietta sduscita anche questa è una conquista anche questa è una conquista ma forse potremmo arrivarci se capissimo che passa attraverso il rispetto rispetto di sé il rispetto degli altri un po' più di attenzione un po' più di divertimento un po' più di sfida perché essere un po' più carini un pochino è comunque gratificante sempre ed è una piccola sfida quotidiana che ciascuno di noi può vincere se ci mette un po' di attenzione e che lei ha vinto mettendosi con la bellissima giacca di quel bellissimo punto di rosso un po' più di attenzione